Mattia Tacchini e Catiuscia Zucco aderiscono personalmente a Fratelli d'Italia, ma ci sarà un'importante collaborazione anche tra i gruppi. Io e la collega Catiuscia Zucco abbiamo siglato con Fratelli d'Italia un patto federativo. Esso fondamentalmente comporta che la nostra componente civica possa estrinsecarsi all'interno del movimento. Noi prenderemo la testa dei Fratelli d'Italia perché questo patto federativo comporta ovviamente una condivisione di un progetto amministrativo e di un quadro valoriale politico che è quello del partito di Fratelli d'Italia, però con una valorizzazione della nostra componente civica. Quindi il nostro gruppo continuerà ad esistere, ovviamente collaborerà con strettissimo rapporto con Fratelli d'Italia. Quindi prima verbagna rimane e il consigliere Farah al momento non ha aderito a Fratelli d'Italia? Il consigliere Farah al momento non ha aderito al patto federativo e a Fratelli d'Italia e ci ritroveremo nei prossimi giorni perché i rapporti sono naturalmente ottimi. Fratelli d'Italia cresce a livello nazionale ma cresce anche a Verbagna? Sì, Fratelli d'Italia cresce e oggi con l'ingresso dei consiglieri Tacchini e Zucco Fratelli d'Italia acquisisce delle persone di grande qualità, soprattutto degli uomini, un uomo e una donna di grande qualità, ma anche due elementi che in questi anni si sono distinti nell'attività amministrativa a Verbagna. Sarà un'adesione politica alla loro, quindi saranno a tutti gli effetti i consiglieri Fratelli d'Italia, pur mantenendo una connotazione civica nel gruppo, quindi nel gruppo Prima Verbagna, proprio perché per noi è una ricchezza la connotazione del mondo civile all'interno del nostro partito. In questo modo sostanzialmente Fratelli d'Italia avrà tre consiglieri comunali a Verbagna che per ora rappresenteranno anche una bella realtà civica che è stata fino ad oggi quella di Prima Verbagna. Rimane aperta però la questione del Presidente del Consiglio Comunale che è da eleggere, c'è stata un'apertura da parte del Sindaco verso le minoranze. Nei prossimi giorni certamente la coalizione di centrodestra, dopo l'apertura del Sindaco, dovrà avagliare un nominativo da portare nell'ambito della minoranza, un nominativo che sicuramente dovrà essere espressione e collante tra tutta la realtà della minoranza verbanese, quantomeno di tutta quella del centrodestra.